Ho delle novità che probabilmente ti alzeranno a realizzare il tuo desiderio in questo 2024. Da domenica 14 aprile si uniranno al nostro gruppo Andre Ruocco Immobiliare due nuove opportunità. AR Proprietà Esclusive e Fresca Vita. AR Proprietà Esclusive ti assisterà nella compravendita di immobili di pregio a Salerno e su tutto il territorio nazionale. La missione è quella di coniugare il potere ambizioso di chi cerca con le proprietà più esclusive e prestigiose d'Italia. Un viaggio entusiasmante che supererà ogni aspettativa. L'obiettivo del team è farti vivere un'esperienza unica e scoprire le relazioni destinate a durare. La seconda è Fresca Vita. Per chi non è più giovane e possiede la sua casa sarà aiutato a realizzare liquidità dalla propria abitazione, restandoci per tutta la vita vendendola a nuova proprietà. Per gli investitori offrire un investimento alternativo, etico e conveniente per garantire il futuro dei propri figli. Il servizio sarà attivo su tutto il territorio nazionale. Scegliere il nostro gruppo significa sentirti a tuo agio quando ci incontrerai. Troverai un ambiente familiare e una cura del taglio che ti sorprenderà. La promessa è di fatti trascorre un'esperienza rilassante e nello stesso tempo entusiasmante. Ti sentirai fiero di averci scelto e non vedrai l'ora di consigliarci ad amici. Presto ti presenterò nello specifico i servizi con il sito e i canali social. Ti invito come sempre di venireci a trovare un'agenzia per un ottimo caffè. Ti aspettiamo!